Il peggio soggetto da tatuare secondo me è senza dubbio la fatina. La fatina è proprio il tatuaggio che è il peggior dito in culo da fare, perché è un tatuaggio per più delle porte mentre il cliente arriva con questa immagine presa comunque da... che non è né un disegno né una foto, è una cosa fatta tipo aerografata, molto leggera, quindi priva di outline. E spesso le vogliono sempre piccolissime queste fatine, adesso ho delle faccette minuscole, questi mezzi elfi così, tutto dettagliato, è una merda di tatuaggio che nel tempo rimane male, perché comunque sia se mischiano le righe, quando è una cosa troppo piccola e dettagliata rimane male. Io personalmente mi rifiuto di fare fatine da sempre. Varie fatine, la fatina dell'elfo, la fatina quella con le stelline, la streghetta, comunque è un tatuaggio, il lirate massima se lo può fare, quelle donne che ci hanno un po' rimaste infantili dentro. Comunque è un tatuaggio del cazzo proprio, o no? Sbaglio?